Strane visioni cominciate a fine agosto-inizio settembre. Il barista di fiducia che appare ad un tratto vichingo e al posto del solito orzo serve sul bancone un boccale di birra. Comincia così, disteso sul lettino, il racconto del professore conformista alla strizza cervelli. Partite di calcetto che diventano campi di battaglia, manifesti elettorali che escono dai muri al grido eroico di libertà, severe vigilesse tramutate in fatine che sbloccano per magia ingorghi di traffico, partite a freccette vinte da mitiche elfe che fanno centro con l'arco. È molto grave, dottoressa, ma che cos'ho? Dipendenza da Montelago, la di Agno si certa, perché chi ci è stato almeno una volta non può più farne a meno. È lo slogan di lancio dell'edizione numero 16 di Montelago Celtic Festival, il 2, 3 e 4 agosto a Taverne di Serravalle di Chienti, affidato al trailer 2018 in chiave ironica e giocosa. Sorprese, luoghi, personaggi, duelli, melodie e balli, a rendere credibile l'incredibile torna la festa fantastica della Terra di Mezzo, nel cuore dell'appennino umbro marchigiano. E così, immersi per tre giorni in un mondo parallelo, lontani dalla quotidianità della città, dai soprusi dei potenti e dai litigi della politica, è la rivincita del popo di impiegati, mastri retta, salinghe fate, bambini folletti e giovani elfi, che credono in un mondo bello e migliore e invadono in pace, a migliaia l'altopiano di Colfiorito, con un messaggio d'amore. Diretto da Nicola Brunelli, puro talento anconetano di appena 28 anni, laureato all'Accademia di Belle Arti di Macerata, regista, filmmaker e cofondatore del gruppo comico-satirico Warren Wells, il trailer, prodotto da Arte Nomade, è pronto a diventare virale, come quello in versione fantasy dell'anno scorso, a firma di Gianluca Grandinetti, che ha fatto il giro di web con centinaia di migliaia di visualizzazioni. Ed ecco che le visioni del professor nazionale frodo Cesare Catà, attore protagonista del trailer, ideologo di Montelago Celtic Festival e responsabile della sezione Cultura della Manifestazione, sono anche uno stile di vita, capace di unire generazioni e geografie, un'idea di realtà, musica, arte e cultura che va oltre, per rilascere ogni volta più forte. Montelago Celtic Festival è un evento firmato a Arte Nomade, e organizzato in collaborazione con Regione Marche, Provincia di Macerata, Comune di Serravalle di Chienti, Cosmari, Protezione Civile della Regione Marche, Università di Camerino e con il patrocinio di Federazione Italiana Rugby e Legambiente. Per info www.montelagocelticfestival.it www.montelagocelticfestival.it